Il Comune di Battipaglia con il piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 indice in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale la prima edizione del concorso I giovani e il senso della legalità e della trasparenza. Concorso che mira a stimolare gli studenti a fare riflessioni sul tema e verificare la reale percezione del concetto di legalità. Oggetto dell'iniziativa sarà la produzione di un elaborato scritto, disegno per le scuole primarie, fiabba, racconto, fumetto o poesia per le scuole secondarie di primo grado. Il bando è disponibile sul sito del Comune. Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in forma cartacea o su supporto informativo entro il 20 dicembre 2018. La Commissione esaminerà gli elaborati ed assegnerà tre premi, primo classificato 500 euro, il secondo 200, il terzo 100 euro.